la cucina no, non ti dura fino a stasera, qui ti volevo dura molto di più è fatto con un lievito speciale di pasta madre appare una bambina in camicia da notte la conosco fin troppo bene ha un testone d'angioletto sembra in un sogno buonissimo dice sei bravissima dice vai mi sento un po' sola qui credo che noi due dovremmo diventare amiche anch'io perché volevo farti il regalo giusto ecco sì il regalo giusto vai che perdi l'aereo ciao ciao